Ciao a tutti, in questo video parliamo dell'ittero del cane del gatto. Prima di tutto definizione di littero. L'ittero è la colorazione giallastra della cute, della sclera, dell'occhio, delle mucose, anche del siero quando centrifughiamo il sangue, dovuta ad un aumento di bilirubina nel sangue. Quindi quando abbiamo un aumento di bilirubina nel sangue abbiamo questa colorazione giallastra ed è causata da diverse patologie, da diverse cause. Esistono tre tipi di littero, abbiamo un littero preepatico, un littero epatico e un littero postepatico. Quindi abbiamo tre tipi di littero, andremo a parlarne dopo. Ora devo spiegarvi ovviamente, abbiamo detto che l'ittero è un aumento di bilirubina nel sangue. Quindi dobbiamo cercare di spiegare in questo video che cos'è la bilirubina, da dove deriva la bilirubina. La bilirubina è una sostanza che si forma dal metabolismo del gruppo Eme. Quindi che cos'è il gruppo Eme? Ovviamente in molti mi starete chiedendo. Il gruppo Eme fondamentalmente è una parte di un'altra molecola che si chiama emoglobina. Questa magari la conoscete già di più. L'emoglobina è una sostanza che si trova all'interno dei globuli rossi. Cosa serve l'emoglobina? L'emoglobina serve per fondamentalmente captare l'ossigeno. Quindi attraverso l'emoglobina si attacca l'ossigeno e viene portato ai vari tessuti in tutto l'organismo. Quindi la trasformazione dell'emoglobina quando il globulo rosso muore fondamentalmente il gruppo Eme subisce una trasformazione per recuperare la molecola di ferro fondamentalmente del gruppo Eme e da questa trasformazione si forma la bilirubina. Questa bilirubina si chiama indiretta e attraverso un processo che avviene all'interno del fegato si formerà una bilirubina diretta. Quindi questa bilirubina diretta verrà poi eliminata attraverso le vie biliari all'interno del nostro intestino nostro e del cane del gatto ovviamente. Questa bilirubina servirà fondamentalmente per la digestione soprattutto dei grassi all'interno dell'intestino, del piccolo intestino. E la bilirubina che viene eliminata attraverso le vie biliari che serve per la digestione soprattutto dei grassi e poi darà quella colorazione marrone diciamo alle nostre feci e alle feci del cane del gatto. Molto semplice. Spero di aver spiegato in modo più semplice possibile il discorso della bilirubina. Quindi partiamo da globuli rossi. Quindi abbiamo detto c'è un ittero preepatico. L'itero preepatico quando è che avviene? Avviene quando abbiamo una massiva distruzione di globuli rossi in poco tempo. Abbiamo detto che il gruppo M viene diciamo recuperato il ferro dal gruppo M quando il globulo rosso chiaramente va incontro a morte naturale. Un globulo rosso non vive ovviamente tutta la vita ma c'è una riformazione di globuli rossi attraverso il midollo osseo. Quindi quando il globulo rosso invecchia fondamentalmente c'è questo recupero e c'è questa produzione anche di bilirubina. Quando invece abbiamo una patologia come per esempio un'anemia emolitica in cui c'è un fattore che distrugge i nostri globuli rossi in poco tempo abbiamo un'iperproduzione di bilirubina indiretta. Abbiamo detto che la bilirubina indiretta si forma dalla distruzione fondamentalmente del globulo rosso. Quando tutta questa bilirubina arriva al fegato se abbiamo un fegato che chiaramente non ha problemi che lavora correttamente cosa dovremmo avere? Dovremmo avere che il fegato fondamentalmente cerca di trasformare la bilirubina indiretta in bilirubina diretta per poi eliminarla chiaramente attraverso le vie biliari. È chiaro che se c'è una quantità enorme nonostante il fegato lavori correttamente non riuscirà a gestire tutta questa bilirubina e quindi cosa avremo? Avremo fondamentalmente la formazione di bilirubina indiretta e quindi delle feci chiaramente marroni proprio perché la bilirubina riesce ad arrivare in intestino e quindi colora anche in maniera molto intensa le nostre feci di color marrone ma ovviamente una parte di bilirubina indiretta non verrà metabolizzata perché ce n'è troppa e quindi avremo un'iper bilirubinemia nel sangue che ovviamente provocherà poi questa colorazione giallastra della nostra cute, delle nostre mucose, della sclera e ovviamente del siero quando noi centrifughiamo il sangue. E se andremo a fare l'analisi dopo un'anemia emolitica molto spesso abbiamo un aumento della bilirubina. Questo diciamo è l'itero preepatico. L'itero epatico è quando abbiamo un problema a livello di fegato quindi fondamentalmente il fegato non lavora correttamente quindi non riesce a trasformare la bilirubina indiretta in bilirubina diretta o ne trasforma veramente poca e quindi avremo un ittero epatico. L'itero postepatico invece è quando abbiamo di solito un'occlusione a livello di vie biliari quindi abbiamo una produzione normale di bilirubina indiretta viene trasformata in bilirubina diretta ma questa non riesce poi a raggiungere l'intestino e quindi fondamentalmente avremo delle feci che si dice che fondamentalmente sono molto gessose, bianche, proprio perché non arriva fondamentalmente la bilirubina nell'intestino. Questo diciamo è fondamentalmente l'itero postepatico. C'è possibilità di differenziare i tre itteri sicuramente clinicamente attraverso l'esame delle feci e a volte anche attraverso l'esame delle urine attraverso l'analisi delle urine possiamo valutare sia la presenza di bilirubina che di urobilinogeno che ci aiuta nel differenziare l'itero preepatico epatico postepatico. Nel preepatico avremo sicuramente all'emocromo un'anemia importante, nell'epatico avremo sicuramente un aumento delle transaminasi e per differenziare l'epatico dal postepatico di solito ci sono delle transaminasi che ci aiutano. Di solito la gamma GT e l'ALP, la fosfatase alcalina, tendono ad aumentare più nel postepatico quindi abbiamo un aumento sicuramente importante nel postepatico mentre invece a transaminasi come l'ALT tendenzialmente abbiamo un aumento nell'epatico quindi se facciamo un esempio per cercare di spiegare abbiamo un cane che presenta delle feci bianche, gessose, già ci indica un probabile ittero con una colorazione giallastra delle mucose, all'esame del sangue abbiamo bilirubina altissima e fondamentalmente abbiamo un aumento della gamma GT della fosfatase alcalina e in quel caso lì è molto probabile che sia un ittero postepatico quindi attraverso un'ecografia magari andiamo a vedere se c'è un'occlusione che non permette la fuoriuscita della bile mentre invece per esempio se abbiamo magari delle feci marroni anche molto brillante a volte anche brillanti o comunque delle feci tendenzialmente normali e abbiamo magari l'ALT elevatissima e magari anche la gamma CT e la fosfatase alcalina alte ma le feci hanno comunque una colorazione tendenzialmente marrone lì è più facile che sia un ittero epatico. Spero che questo video vi abbia un po' chiarito il concetto di ittero ovviamente poi l'anemia ce ne possono essere di diversi tipi possono essere emolitiche possono essere causate da micoplasmi da parassiti epatico possono esserci mille problematiche che possono aver generato un problema epatico e postepatico tendenzialmente abbiamo un'occlusione che può essere dovuto a un blocco del coledoco un'occlusione del coledoco oppure a una neoformazione a volte anche delle parassitose un corpo estraneo e quindi ci sono diverse poi patologie. In questo video volevo solo concentrarmi su che cos'era l'itero e come era differenziato in modo da capire che l'itero cioè la colorazione giallafra ci indica tre fondamentalmente scenari che poi noi clinici dobbiamo andare a capire per capire poi qual è la causa e cercare di aiutare il cane e il gatto. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima!